Viene da me una donna che pensa continuamente all'ex partner, con cui la relazione è finita in modo brusco e inspiegabile. Dice che lui non la merita, ma contemporaneamente continua a pensarlo tutto il giorno. Così durante la seduta le dico, come mai gli stai facendo questo regalo? Come mai continui a donargli il tuo tempo, i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti dopo quello che ti ha fatto? Perché mai vorresti dover recitare la parte dell'ingenua cortigiana che aspetta che il grasso re la reclami nelle sue stanze? La donna sgrana gli occhi e con una luce mi dice assolutamente no, non voglio donargli nemmeno un altro secondo a quello lì. E nell'incontro successivo mi racconta come abbia ricominciato a dedicarsi a se stessa e a ciò che è davvero importante per lei. Questo caso, che per ovvie ragioni di privacy è una sintesi di più situazioni viste nel corso della mia esperienza, è un esempio della logica che ho chiamato creare avversione. Come dicevo negli scorsi video, negli anni, mi sono messo a studiare un bel po' di tecniche di intervento utilizzate in diversi approcci di terapia breve, con l'idea che, anche se esistono centinaia di tecniche, queste possono essere ricondotte a un piccolo numero di logiche, logiche che il terapeuta segue perché vuole provocare determinati effetti. Così, dopo un bel po' di lavoro, ho identificato queste nove logiche differenti, che lo scorso anno ho presentato alla Brief Therapy Conference tenutasi in California, e che adesso ho deciso ogni secondo martedì del mese di spiegare in video come questi. E la prima da cui voglio inserire, appunto, la logica del creare avversione. In pratica ho notato che esistono tutta una serie di interventi che i terapeuti brevi utilizzano per indurre la persona a considerare alcuni suoi comportamenti e atteggiamenti come poco utili, poco piacevoli, indesilierabili. In pratica li aiutano a rendersi conto che ciò che stanno facendo non è un bene per loro, spesso suscitando un sentimento di vera e propria avversione verso quei comportamenti o atteggiamenti. Facciamo un esempio, prendiamo la tecnica della paura dell'aiuto, così come formulata da Giorgio Nardone nel suo protocollo di intervento per gli attacchi di pane. Qua è uno dei tanti esempi di logica del creare avversione. In quel caso si dice alla persona che quando chiede a qualcuno di aiutarla, magari stando con lei in casa accompagnandola a fare delle commissioni senza lasciarla da sola, da un lato chi la sta aiutando le sta dicendo ti voglio bene, però dall'altro le sta comunicando tu da sola non sei in grado. L'idea in questa tecnica e quindi in questa logica, quindi la logica seguita dal terapeuta, è quella di produrre un'avversione verso quel comportamento, inducendo la persona a smettere di farlo, senza però chiederglielo direttamente, perché ovviamente il terapeuta ritiene che in quel modo non otterrebbe alcun risultato. Mi pare di aver letto proprio in un libro di Nardone il termine creare avversione, non ne sono sicuro, comunque mi è sembrato una buona etichetta per tutti quegli interventi e quelle manovre tese a motivare o indurre la persona ad abbandonare un determinato atteggiamento o comportamento, evocandone la sua indesiderabilità. Cioè da considerare che molte tecniche possono indurre questo effetto, la differenza è più nel loro utilizzo. Infatti nello studio delle nuove logiche una cosa che ho visto è che molte tecniche possono rispondere a più logiche, sebbene spesso sembra che alcune siano più portate verso una o verso l'altra. Quindi cosa ti puoi portare di utile da quanto appena detto? Beh, uno dei vantaggi di conoscere le nuove logiche è che ti permettono di creare delle tecniche ad hoc, basandoti appunto sulla logica che hai deciso di seguire anziché sparando nel mucchio tecniche a casaccio sperando di fare 100. Se ti interessa saperne di più sto organizzando un corso per prendere le nuove logiche riservato solo agli psicologi e limitato anche a pochi posti. E se sei interessato puoi andare su www.flaviocannista.it e registrarti. Intanto però un suggerimento è quello di allenarti a individuare delle situazioni in cui si rivela estremamente utile aiutare la persona a rendersi conto di quali atteggiamenti e comportamenti siano in realtà controproducenti. Non tanto dicendoglielo direttamente ma evocando la sensazione che ciò che sta facendo non l'aiuta ad uscire dalla stanza ma solo a prendere la testa della porta.